ciao a tutti io mi chiamo claudia e ho deciso di aprire un canale che parli e tratti di temi di storia dell'arte e ogni video sarà un'analisi di un'opera diversa di un'opera che a me è cara e ho deciso di aprire questo canale perché sono convinta che il bello salverà il mondo almeno ci spero insomma allora voi vedrete la mia faccia praticamente solo all'inizio di questi video dopodiché vedrete l'opera che io ho scelto con l'analisi appunto della stessa se avete poi dei suggerimenti per quanto riguarda le opere da trattare sono assolutamente i benvenuti e ben accetti va bene allora buona visione scusate sono molto emozionata buona visione e buon ascolto eccomi allora come vi dicevo poc'anzi sentirete la mia voce ma vedrete poi direttamente l'opera che vado ad analizzare oggi ho scelto di iniziare con i bronzi di Riace questo essenzialmente per due motivi il primo per rendere omaggio ai miei genitori che sono originari della Calabria in secondo luogo perché queste due statue rappresentano diciamo uno dei punti di massimo splendore della Grecia classica infatti sono databili sono riconducibili all'epoca di Pericle quindi intorno al quinto secolo a.C. sono due statue assolutamente importantissime sia dal punto di vista stilistico perché appunto rappresentano quella che è l'evoluzione della scultura in epoca classica sia per il materiale infatti i due bronzi sono appunto in bronzo a parte la tautologia ma è molto raro che delle statue di epoca così antica e di queste dimensioni soprattutto siano arrivate integre fino a noi questo perché il bronzo comunque le statue in metallo venivano fuse e riutilizzate per altri scopi soprattutto in epoca medievale ma non solo quindi è veramente un miracolo infatti se sapete i bronzi sono stati ritrovati in caso assolutamente fortuito nel 1972 a largo della costa di questo paese che si chiama Riace ed erano appunto sott'acqua sono state ritrovate e portate alla luce dopo una fase diciamo di restauro molto importante a Firenze le statue vengono ritrasportate in Calabria e sono tutt'oggi visibili nel museo archeologico di Reggio Calabria le statue sono assolutamente imponenti sono alte quasi due metri escluso il piedistallo sono alte per essere precisi un metro e novantotto rappresentano quello che è il canone estetico della Grecia del quinto secolo ma prima di parlare dei dettagli farei solo un breve accenno sulla tecnica di fusione diciamo delle statue infatti sono due statue cave e per cui sono più leggere rispetto a quanto noi possiamo immaginare sono state fatte con la tecnica della cera persa in cosa consiste questa tecnica? si creava un modellino di cera che veniva poi successivamente ricoperto da una lega bronza appunto una lega metallica e questa cera veniva fatta defluire da alcuni foghi posti alla base della statua sotto i piedi per cui tutta la cera veniva fusa e rimaneva l'involuco esterno la particolarità di queste due statue è che sono giunti fino a noi anche i particolari del corpo e questo ci fa intuire che non venissero usate solo leghe metalliche, leghe bronze, diciamo la lega bronzea per il corpo ma venivano utilizzati anche altri materiali per i particolari ad esempio il rame per l'incarnato delle labbra, l'argento per le ciglia e l'avoglio e pietre dure per l'occhio e la pupilla e il rame anche per i capezzoli che veniva utilizzato quindi per le parti più rosse del corpo andando ad analizzare invece la struttura cosa notiamo? notiamo che c'è un naturalismo molto evidente un naturalismo vogliamo dire idealizzato di questi corpi che sono estremamente slanciati, estremamente dinamici e soprattutto si pongono in un movimento molto particolare sono in una struttura detta a chiasmo cioè se notate la struttura del braccio sinistro e della gamba destra sono in movimento come se fosse un movimento mentre il braccio sinistro e la gamba destra sono in posizioni di stasi e si va a formare una specie di X da qui il termine chiasmo io noterei anche la realizzazione assolutamente molto particolareggiata dei riccioli di barba e capelli di entrambi probabilmente questi sono da intendersi come due atleti o due guerrieri forse due guerrieri non lo sapremo mai nel senso che come vedete in entrambi al braccio sinistro c'è questo appiglio che probabilmente doveva sostenere uno scudo mentre nella mano destra data la particolare posizione della mano è probabile che tenesse una lancia ma sono oggetti che non sono giunti fino a noi appunto come dicevo prima l'intera struttura anatomica è dettagliatissima e molto studiata questo presuppone una conoscenza molto avanzata di quello che era il corpo maschile e un balzo in avanti rispetto alla statuaglia greca arcaica dove il corpo era diciamo molto stilizzato e non c'era questa cura del particolare e soprattutto va un po' in controcorrenza anche rispetto all'arte egizia dove invece la statuaglia è sicuramente di proporzioni più imponenti e non è sicuramente naturalistica per cui questa è l'analisi molto veloce delle due statue se avete altre particolarità volete sapere qualcos'altro scrivetemi che insomma faremo altri video in proposito grazie mille dell'ascolto e ci vediamo con una nuova pillola